Ok, voglio fare un sondaggio. Quanti di voi non avete mai avuto paura di niente nella vita? A casa, forse, qualcuno? Quanti di voi invece sono più, diciamo, ammetterebbero di essere un po' che si... come si dice, paurosi? Quindi, qual è la tua paura maggiore? Abbiamo già detto che non c'è nessuno che non ha paura, ma qual è la tua paura maggiore? Ci sono varie liste, qualcuno ha paura di parlare in pubblico, ovviamente io ho il difetto di parlare male in pubblico, ma non di parlare, non avere paura. E forse i serpenti, a noi piacciono gli animali, piacciono anche i serpenti, no? Sì, meno male, perché qualcuno dovrà... Una volta eravamo in America e c'era un serpente, non eravamo sicuri se era un serpente innocuo o un serpente a sonagli. Adesso qual è la paura che tutti hanno? Coronavirus, vero? O Covid, adesso dicono Covid, più brutto. Abbiamo tutti delle paure, chi più chi meno, ma sapete che sicuramente c'è un giorno che dovrebbe farci paura a tutti. È il giorno del giudizio. Immaginatemi la scena soli davanti a Dio, soli tra virgolette, con tutti i nostri peccati davanti al Dio Santissimo e penso che sia un'esperienza che ci dovrebbe far riflettere molto su come noi viviamo le nostre vite. Vogliamo ripassare brevemente, vi ricordate che stiamo facendo uno studio della fine dei tempi? Abbiamo cercato di suddividere tutto il tempo tra la risurrezione e i nuovi cieli e la nuova terra. Vi ricordate, bambini, abbiamo fatto il campo estivo, nuovi cieli, nuova terra? La prossima volta lo vedremo insieme. E sono sette tappe per dividerlo in modo organizzato. Abbiamo cercato di usare le R. Ricordate com'è, dovete essere forti. La prima è risurrezione e ascensione di Cristo. La seconda è il rapimento della Chiesa. Poi quella che un pochino c'entra meno con le R, ma la grande tribolazione. Bravo, Alejandro. E il ritorno glorioso di Cristo. L'ultima volta abbiamo studiato il regno millenario di Cristo. E poi vi ricordate, ho leggermente cambiato questo titolo. Rivolta e giudizio finale, che vedremo oggi. E infine vedremo il regno eterno. Quindi è una mappa abbastanza facile. Se qualcuno vi chiede, ma qual è la lista dei momenti degli ultimi tempi? Sette R. E vi ricorderete sicuramente. Ok, oggi siamo alla sesta e penultima tappa. Guarderemo la rivolta e il giudizio finale. Quindi avete già capito che oggi parleremo di giudizio. Vi voglio fare una domanda. Voi sapete che siete tutti teologi. Siamo tutti teologi. La questione è, siamo buoni teologi o cattivi teologi? Quindi siamo tutti teologi. Vi voglio chiedere, chi giudicherà i vivi e i morti? Chi giudicherà i vivi e i morti? Ho già sentito Dio. Qualcuno dice Cristo. Io sono una persona essenzialmente, sapete, siamo tutti ignoranti finché non impariamo. E questo studio mi ha fatto bene perché ero un po' ignorante su questo argomento. Mio fratello si vede che era molto più preparato di me. E ero sempre sotto l'impressione perché pensiamo a Dio Padre sul trono che è Dio Padre che giudica, giusto? Un po' abbiamo queste immagini di Dio Padre sul trono che giudica, con il suo scettro, con la sua maestà, la sua autorità. Preparandomi per questo studio invece ho scoperto una cosa molto interessante. Siete pronti alcuni, molti con me, di essere scioccati? Dio Padre non giudicherà nessuno. Eh? Ho sentito bene. Dio Padre non giudicherà nessuno. Qualcuno dice, ah, veno male, allora non c'è un giudizio finale. Non ho detto questo. Ma Dio Padre non giudicherà nessuno. Guarderemo un sacco di versetti, quindi cercate di starmi dietro. Spero che prima delle una finiamo oggi. No, faremo prima, speriamo. Giovanni 5,22, Gesù dice questo. Il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al figlio. Molto strano questa affermazione. È un'affermazione che non avevo mai capito. Dico la verità, finché non mi sono dovuto sedere a studiare per voi questa settimana. Tutti saranno giudicati da Gesù Cristo per volere del Padre. Un altro versetto molto interessante su questo, Primo Corinzi, Paolo. Primo Corinzi 15. Torniamo sempre lì, ricordate. Dice, di fatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Ma quando dici che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accentuato. Eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora anche il figlio, che avrà sottoposto tutte le cose, il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto e in tutti. Tutte le cose, quindi, adesso sto dicendo io, il versetto è finito, tutte le cose saranno sottoposte a Cristo, che poi le presenterà al Padre. Ma ancora più sorprendente per me, in questo studio, di chi sarà che giudicherà e come Gesù Cristo giudicherà. Ed ecco, infatti, il titolo del messaggio di stamattina. Spero che riuscite a cedere una stampante, o almeno portate un foglio per prendere appunti. ci sono tante cose molto importanti, ma vedremo oggi cinque giudizi del giusto giudice. Vedremo in altre parole come Dio ristorerà tutte le cose in Cristo Gesù. Quando noi pensiamo alla giustizia, pensiamo a dei torti, dei torti che sono stati fatti e che sono stati in qualche modo riparati, è vero? Forse avete avuto delle brutte esperienze dove qualcuno vi ha fatto qualcosa ed è stato trovato colpevole e c'è stata in qualche modo una riparazione per il torto che vi è stato fatto. Vogliamo aprire le nostre Bibbie e vi prometto che andremo ad Apocalisse, continueremo lo studio di Apocalisse, ma questi giudizi sono particolari, dobbiamo fare un passo indietro. Quindi apriamo le nostre Bibbie, non ad Apocalisse, ma vogliamo fare un passo indietro. Eravamo arrivati, vi ricordate di dove? Al millennio, abbiamo detto che per mille anni Gesù avrebbe regnato, quindi siamo alla fine del millennio in Apocalisse, ma adesso dobbiamo fare un passo indietro a mille e sette anni prima, per il primo giudizio. Mille e sette anni prima della fine del millennio. Avrete già capito che si tratta di quale momento? Il momento del rapimento della Chiesa. Quindi, secondo Corinzi, 5, 9 e 10, dice questo Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia, sta parlando ai credenti, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, ecco il versetto chiave, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. Di chi sta parlando? Sta parlando dei credenti qua. Sta parlando di una retribuzione. Sappiamo che non parla di retribuzione dei non credenti, perché parla del bene e del male. Quindi il primo punto, stamattina avrete già capito, è che Gesù giudicherà la Chiesa. Potete mettere i credenti, ma è meglio mettere la Chiesa, perché questo è il momento della Chiesa. Il rapimento è il momento che appartiene a Gesù e la Chiesa. Gesù viene, ci chiama, e noi che siamo in Cristo torniamo con Lui. E in quel momento arriviamo nella corte celeste, di cui abbiamo sentito cantare stamattina, e arriveremo davanti a Cristo. Quindi Gesù giudicherà la Chiesa dopo il rapimento. Ci sono altri versetti che parlano di questo, ve l'ho messo, penso, sugli appunti. Il primo corinzi 4.5, secondo Timoteo 4.8, potete andare a vedere a casa per approfondire. Quindi Gesù giudicherà la Chiesa e lo giudicherà la Chiesa subito dopo il rapimento. Io ero già pronto per essere giudicato in Apocalisse 20. Invece no. Noi credenti avremo un altro giudizio. È molto interessante. Mi ricordo anni fa avevo studiato un pochino di Beethoven, per noi amanti della musica, e ho scoperto che in Austria c'erano due tribunali. C'era un tribunale per la gente comune e c'era un tribunale per i nobili. Già abbiamo capito che tipo di giustizia c'era in Austria ai tempi di Beethoven. Ma sarà così anche per noi. Ci sarà un tribunale per i credenti e un tribunale per i non credenti. Ci saranno cinque giudizi, come vediamo. Ok, quindi Gesù giudicherà la Chiesa subito dopo il rapimento, poi Gesù giudicherà, dice, da un trono elevato. È un nome particolare. Questa è la parola bema, che non è usato in Apocalisse per gli altri troni. È un trono simile a quello che avrebbe usato Pilato nel giudicare Gesù. O Erode, vi ricordate il famoso episodio a Cesarea di Erode che viene eroso dai vermi? E si vede che lui arriva e si siede su quel trono. E per capirci, per noi che siamo forse dispiaciuti per le Olimpiadi, è un po' questa stessa idea del podio delle Olimpiadi. Un posto di grande visibilità, come allo stadio, dove Gesù presiederà, e lettra C, abbiamo già visto un trono elevato, e lettra B, Gesù renderà visibile, dice, ogni nostra opera. Non so voi, ma non è una proposta allettante per me. Romani 2,16 dice questo, che tutto ciò, tutte le nostre opere, si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti dei uomini per mezzo di Gesù Cristo. Quindi, sia credenti che non credenti, nessuna cosa che noi abbiamo fatto di nascosto non era nascosto. Nemmeno per i credenti. Allora, prima di entrare un pochino nei dettagli ancora di più di questo giudizio, e la Chiesa vi voglio confortare, perché l'enfasi di questo giudizio è sicuramente nelle opere buone dei credenti e non nei peccati commessi. Perché i peccati, vi ricordate, sono stati già lavati nel sangue di Gesù Cristo. Wow! Non è un giudizio per valutare se i credenti sono salvati. È un giudizio per riconoscere che la nostra salvezza è già salda, ma di capire come abbiamo passato questi momenti da credenti sulla Terra. Quanto mi conforta in questo momento il versetto che dice non c'è più condanna per chi è in Cristo Gesù. Wow! Io penso che mai più di quel momento avremmo apprezzato questo versetto. Non c'è condanna per chi è in Cristo Gesù. Allora, dobbiamo capire però se non c'è condanna qual è lo scopo? Ci sono due scopi. Prima di tutto Gesù brucerà le nostre opere inutili. Questo lo troviamo in 1 Corinti 3, 12 a 15, dove dice se uno costrisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno, di ogni credente, sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo. Però, come attraverso il fuoco. Purtroppo la Chiesa Romana ha preso questo versetto per dire ah, vedi, c'è il purgatorio. Ma questo non è affatto, sta parlando innanzitutto di credenti e sta parlando di opere. Le opere che sono bruciate, non le persone. Quali opere che sono bruciate? Le opere inutili. Il nostro spreco di tempo. Le ore, i giorni, gli anni, buttate via per le cose che non durano. Il fieno, la paglia. Se è oro, dura. Se è paglia e se è fieno, brucerà. Ecco perché dobbiamo avere la nostra prospettiva puntata su questo giorno per vivere una vita migliore. Quindi Gesù brucerà le nostre opere inutili. Secondo Gesù premierà le nostre opere di valore. Questo è molto interessante. Molti teologi, tra cui anche MacArthur, hanno individuato in questo momento di premiazione cinque corone, sapete che non erano corone d'oro di cui parlava, erano tipo corone di alloro, quello che loro usavano appunto alle Olimpiadi di un tempo e questi studiosi sono quasi unanimi nel riconoscere cinque corone. C'è una corona incorruttibile, non ve l'ho messo perché è un dettaglio in più, ma questo non ve lo faccio pagare questo bonus. Una corona incorruttibile per chi vince sull'uomo vecchio primo corinzi 9,25 una corona di gioia o di vanto per chi evangelizza primo testa unicesi 2,19 una corona della vita perché resiste alle prove ci dice Giacomo in 1,12 una corona della giustizia per chi aspetta il suo ritorno e infine la corona della gloria per i pastori del greggio primo Pietro 5,4 e tutte queste potete trovarle sulle note di MacArthur quindi non mi sto a ripeterle cinque corone ok quindi non so voi ma per me è stato un grande sospiro di sollievo sapevo che la nostra sorte in Cristo è molto diversa da quella dei perduti ma di sapere che anche le mie opere malvagie non sono viste nello stesso modo dei non credenti ma sono viste sotto il sangue di Cristo è vero sono bruciate le nostre opere le opere inutili sono bruciate sono buttate via ma di sapere che in quel giorno anche se con poco avremo la vita eterna ma vi considero di questo io non voglio presentarmi davanti a Gesù in quel giorno e avere le mani vuote e mi fa riflettere molto sulle cose che veramente hanno valore nella mia vita ok questo era solo il primo andiamo avanti ora vi porto un secondo giudizio che è stata anche una sorpresa per me c'è un brano che parla riconoscerete sicuramente dove Gesù parla di pecore e capri anche questo ero convinto che fosse il giudizio finale ma andiamo attentamente a guardare e vedremo che un altro giudizio il secondo giudizio infatti il secondo giudizio è questo che Gesù giudicherà chi entrerà nel suo regno Gesù giudicherà al momento del suo ritorno glorioso e prima del millennio Gesù giudicherà chi entrerà in questo regno questo lo troviamo in Matteo 25 31 a 34 dove dice fate molta attenzione perché si vede proprio il linguaggio del regno del millennio qua quando il figlio dell'uomo che sappiamo che era Gesù è Gesù verrà nella sua gloria quando verrà Gesù nella sua gloria l'abbiamo studiato al suo ritorno glorioso il ritorno glorioso è il momento in cui lui che cosa fa stabilisce il suo regno quindi un altro momento non al rapimento della chiesa ma quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono glorioso di chi è questo trono il trono di Gesù ma è detto anche il trono di Davide lui è l'erede al trono di Davide ok e tutte le genti saranno riunite davanti a lui tutte le persone che sono sopravvissute a questo momento della tribolazione tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra allora il re cioè il figlio dell'uomo Gesù dirà a quelli della sua destra venite voi i benedetti del padre mio ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo abbiamo tante promesse sul milanio vi ho detto che noi abbiamo visto solo la punta dell'iceberg di tutte le profezie che ci sono sul milanio ok abbiamo alcuni appunti qua alcune osservazioni su questo secondo giudizio oltre a questo Matteo 25 vediamo che Gesù conquistatore lettera A accederà al trono di Davide Gesù conquistatore vi ricordate lui viene dalla bocca sua escono le spalle e fanno fuori tutti i suoi nemici Gesù conquistatore accederà al trono poi vediamo che Gesù anche valuterà l'accesso potremmo dire l'accesso dei sudditi al suo regno chi potrà entrare nel suo regno? lo dice qua persone che hanno protetto i figli di Israele che hanno creduto sappiamo che non prendono il segno della bestia ma avranno dimostrato la loro fede per mezzo delle loro opere Gesù garantirà l'accesso a un regno fisico questo è un regno fisico non è il paradiso questo è un regno fisico su questa terra in cui noi viviamo una terra devastata da sette anni di tribolazione ma sempre la terra nostra che noi conosciamo queste persone non moriranno ma accederanno direttamente a questo regno e Gesù riporterà anche in questo momento questa è una piccola parentesi potremmo dire in vita perché mi sono chiesto e me l'ha chiesto Melody mi fa un sacco di buone domande in questo studio mi aiuta molto quindi devo ringraziare lei per il tempo che mi dedica per preparare questo studio ma che fine fanno i morti del Vecchio Testamento vi siete mai chiesti i credenti che fine fanno tornano in questo momento così vediamo in Daniele 12 1 a 3 riporterà quindi vita anche i morti credenti di Israele prima prima dell'avvento della Chiesa con Gesù Cristo ok ora possiamo tornare al nostro testo in Apocalypse abbiamo capito i primi due giudizi primo dei credenti quando al si svegli più forti non mi sento rapimento grazie secondo momento dopo il ritorno glorioso di Cristo prima di entrare nel regno millenario questo è il giudizio per le persone che entrano fisicamente in questo regno senza morire ok e adesso torniamo al nostro testo che stiamo seguendo e che seguiremo anche la prossima settimana la fine della vostra Bibbia Apocalisse 20 se non sapete dov'è andate fino alla fine e tornate indietro Apocalisse lo vedremo in tre parti cominciamo con Apocalisse 20 da 7 a 10 abbiamo lasciato Satana incatenato sono passati mille anni dall'ultimo giudizio mille anni di prosperità mille anni con Gesù come re mille anni dove Satana è incatenato quindi non ci sono tentazioni non ci sono problemi e quindi tutti felici e contenti giusto? ni il terzo giudizio che noi vedremo e vedremo anche il come è che Gesù giudicherà Satana leggiamo insieme versetti da 7 a 10 di capitolo 20 quando i mille anni saranno trascorsi Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra Gog e Magog per radunarle alla battaglia il loro numero è come la sabbia del mare e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città deletta ma un fuoco dal cielo discese e le divorò e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli Gesù giudicherà Satana Satana dice qua versetto 7 sarà liberato brevemente ci può sembrare una pazzia perché Dio libera Satana quando ce l'aveva già sotto le sue mani vi ricordate che Dio ha sempre potere su Satana Dio è sovrano quindi ogni cosa coopera al bene dei figli di Dio ogni cosa coopera alla gloria di Dio quindi Satana sarà liberato brevemente il linguaggio qua è un linguaggio è un verbo passivo che ci fa capire che sarà Dio a fare non è che Satana in qualche modo riesce a scappare sarà Dio ad aprire la porta fa parte del piano di Dio come vedremo per purgare permanentemente il male del mondo un mio studioso preferito che ho visto in questi giorni ha detto questo lo scopo del rilascio di Satana è per dimostrare che quando ho messo alla prova sotto il regno del re e alla rivelazione della sua santità l'uomo è un fallimento l'uomo ha un'ultima prova tutte queste persone generazioni sono circa 50 generazioni secondo i nostri tempi ma forse più come 10 generazioni perché vediamo in Isaia che parla del fatto che queste persone vivranno a lungo se vivranno 100 anni saranno saranno persone che avranno vissuto poco e non sappiamo come o perché muoiono le persone se muoiono di vecchiaia oppure ricordate perché ancora viviamo con la maledizione del peccato dei nostri corpi oppure saranno quelli che si sono ribellati a Dio che moriranno ma sappiamo che le persone mostreranno quello che loro hanno nel cuore quando sono sedotti da Satana quindi Satana letra B sedurrà quindi le nazioni radunandoli per attaccare il popolo Dio Satana esce da questo pozzo da questa prigione e va subito dalle nazioni dice Gog e Magog è un riferimento un'allusione più che un riferimento ad Ezechiele non lo stesso evento di cui parla Ezechiele ma ci ricorda che Satana andrà per i quattro angoli della terra andrà in tutta la terra e cercherà le persone che hanno i cuori malvagi perché sapete che il nostro cuore è malvagio qualcuno ha detto tu basta che metti le persone nel contesto giusto e non faranno il male è vero? ma non è così e questo versetto ce lo dimostra quindi chi sono queste persone che si ribellano sono i discendenti di quelli che sono entrati fisicamente nel millennio dice questo autore questo commentario anche se quelli entrati nel millennio erano salvati non erano perfezionati non come noi che avremo un nuovo corpo sono quei corpi vecchi quelli che abbiamo adesso la loro progenie è nata in quei mille anni nasceranno con la stessa natura pecaminosa dei loro genitori e avranno bisogno di rigenerazione o nuova nascita come noi il fatto è che in un regno perfetto come Cristo quando Cristo è re Satana riesce comunque a sedurli perché dimostra la depravità o depravazione non mi ricordo come si dice umana depravazione i nostri cuori sono malvagi la fonte del nostro male come ha detto Gesù non è qualcosa all'fuori che può essere aggiustata ma è qualcosa che noi abbiamo dentro senza una comprensione della profondità dice questo autore della depravazione del cuore umano non si capisce come una moltitudine come la sabbia del mare dice si possa ribellare contro il Signore Gesù Cristo quando hanno vissuto sotto la sua benedizione per tutta la vita l'uomo anche se ha tutto perfetto riesce a rovinarlo ecco perché c'è il nostro cuore mi piace il versetto di Geremia 17.9 dice il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi potrà conoscere ragazzi giovani bambini a scuola adulti vediamo in televisione dicono segui il tuo cuore il nostro cuore è insanabilmente malvagio non dobbiamo seguire il nostro cuore dobbiamo seguire la volontà di Dio lettra C i nemici di Dio faranno un ultimo disperato tentativo di sconfiggere Cristo e i suoi seguaci 17.9 un ultimo disperato tentativo sarà l'ultima volta che ci sarà una rivolta e questo dimostra che Dio è giusto quando giudica il peccato questo giudizio avviene per mezzo di una morte fisica il fuoco che scende dal cielo tramite il fuoco sui ribelli assembrati sotto la guida di Satana Dio elimina con ogni ultima incredulità del regno in preparazione a un'unione con il regno eterno di Dio vuole eliminare vuole fare una purga di tutto il male lettera D non soltanto faranno un ultimo disperato tentativo il diavolo possiamo tutti tirare un sospiro di sollievo sarà sconfitto una volta per tutte era ora il diavolo sarà gettato nello stagno di fuoco di zolfo e potremmo immaginare perché anche scientificamente è stato studiato questo fatto sarà un fuoco liquido lo vedremo quando parliamo della condanna dell'uomo il diavolo andrà a raggiungere la bestia e l'anticristo che l'aspettano in questo posto e insieme saranno tormentati e non ne usciranno più insieme lo dico tra virgolette perché c'è un isolamento una separazione un buio eterno in questo posto ok arriviamo alla quarto giudizio abbiamo visto già tre giudizi sui credenti su quelli che entreranno nel millennio e su satana vogliamo vedere che Gesù giudicherà anche la terra e il cielo non sto parlando delle persone che vivono sulla terra sto parlando proprio della terra e del cielo abbiamo visto e vedremo i romani che cominceremo tra un paio di settimane ricominceremo quanto anche la terra è contaminata dal peccato quindi non è una terra in cui noi potremo vivere per sempre è una terra distrutta dal male una terra malata Gesù giudicherà la terra e il cielo si siederà dice e vediamo questa scena in versetto 11 dove dice poi vedi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro non c'erano più vogliamo esaminare questo fatto prima di tutto questo è il versetto che io ero sicuro che era il Dio Padre che scendeva dal cielo ma non è quello che noi vediamo negli altri versetti che abbiamo già visto quindi Gesù si siederà sul trono bianco un trono distinto dagli altri troni questo è il trono bianco il grande trono bianco un trono glorioso e allo stesso tempo terrificante per i nemici di Dio e dice che in questo momento la terra e il cielo saranno distrutti completamente completamente distrutti dice che la terra e la sua atmosfera celeste probabilmente sta parlando di questo fuggiranno vi ricordate che in 2 Corinthians abbiamo studiato Paolo ci ha detto che ci sono tre cieli il primo cielo è l'atmosfera il secondo cielo è lo spazio e il terzo cielo è il regno di Dio il regno celeste il paradiso dove noi temporaneamente vivremo molto temporaneamente da quando moriamo o siamo rapiti fino al nostro ritorno con Cristo nel millennio la terra e il cielo saranno distrutti completamente non ci sarà più posto per loro secondo Pietro ne parla in modo più dettagliato e dice questo secondo Pietro 3 10 a 13 che passeranno stridendo dice il giorno del Signore verrà come un ladro in quel giorno i cieli passeranno stridendo gli elementi infiammati si dissolveranno la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate molto interessante perché questo questo momento questa forza viene da Dio mi fa pensare al versetto in ebrei 12 29 dice che il nostro Dio è anche un fuoco consumante questa terra che noi conosciamo lascerà il posto come vedremo la settimana prossima a qualcosa di più grande e più bello ancora più perfetto di quello che Dio ha creato qua quindi i cieli e la terra passeranno non ci sarà più posto dove nascondersi come faranno queste persone a vivere se non c'è più il cielo e la terra saranno morte saranno morte tutte il grande trono bianco e su questo trono vediamo Gesù Cristo l'Alfa e l'Omega pronto per il momento più temuto della storia del mondo anche più temuto della disintegrazione totale della terra e del cielo infatti l'ultimo punto che abbiamo stamattina è che Gesù giudicherà gli increduli dice versetto 12 e vidi morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono i libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere il mare restituì i morti che erano in esso la morte e l'ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco altro che momento di silenzio per il coronavirus questo è il momento più tragico della storia dell'uomo milioni se non miliardi di morti che escono dall'ades che è molto interessante la parola inferno nella nostra traduzione non c'è la maggior parte delle traduzioni usano la parola ades per parlare di questo posto dove loro stanno adesso e dove tutti i non credenti adesso vanno saranno tirati fuori da questo posto terribile per essere giudicati da Gesù e mandati in un posto ancora peggio i credenti la buona notizia per noi è che non saranno lettera giudicati come abbiamo visto perché sono stati già trasformati con i loro corpi quando dice che vidi morti grandi e piccoli già quella è un'indicazione che non sta parlando di noi perché non saremo più morti capite io ho sempre pensato che in questo momento tornavamo e ci sono alcuni studiosi che sbagliano su questo più riformati ma MacArthur e tanti altri buoni studiosi la maggior parte riconoscono che questo momento è un momento dedicato esclusivamente ai peccatori increduli impenitenti i credenti non saranno giudicati ecco perché in Apocalisse 26 potete darci una sbicciatina abbiamo visto l'ultima volta quando abbiamo studiato questo questa è la morte seconda di cui sta parlando vi ricordate che prima ha detto c'è una distinzione dopo ha detto avrei parlato della morte seconda ecco la morte seconda le persone muoiono vanno al non credenti vanno all'Hades questo posto bruttissimo questo posto che Gesù descrive è vero anche nei Vangeli ma non è il posto permanente arriverà una morte seconda una morte ancora più permanente di quella che hanno adesso i non credenti quindi lettera C non saranno anzi scusate i non credenti saranno perdonatemi condannati secondo le loro opere noi credenti non saremo salvati secondo le opere ma i non credenti saranno condannati secondo le loro opere potremmo dire che è arrivata la resa dei conti quello che tutti noi meritiamo in questo momento sono quelli che non hanno partecipato dice alla seconda risurrezione come si può leggere nei versetti 5 e 6 di capitolo 20 di Apocalisse e saranno giudicati secondo le opere scritte nei libri ci sarà un rendiconto ogni opera ogni peccato non in questo libro ma ogni peccato sarà segnato ogni pensiero ogni volta che una persona aveva l'opportunità di fare il bene e non l'ha fatto tutto sarà segnato e per confermarlo ci sarà un altro libro aperto questo è il libro della vita in cui sono i nomi di tutti i figli di Dio quelli che Dio ha eletto prima nella fondazione del mondo e queste persone non saranno trovate in quel libro saranno doppiamente condannate saranno giudicati secondo le opere scritte una cosa interessante che io avevo sempre pensato che in qualche modo alla fine chi va all'inferno va all'inferno o chi va al lago di fuoco va al lago di fuoco invece no ci sono distinzioni anche lì non tutti saranno condannati ugualmente all'inferno ma saranno tutti giudicati è un po' come qualcuno si brucia di più ma qualcuno di meno ma è sempre una bruciatura e non ce l'auguriamo è vero questa sarà una bruciatura permanente le opere giuste e malvagie saranno giudicate anche le opere giuste che fanno saranno giudicate e non in bene Isaia 64 dice tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro tutta la nostra giustizia come un abito sporco tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento ogni nostro pensiero anche un pensiero buono ma senza Cristo fa schifo davanti a Dio non è accettato non è che dice vabbè chiudere un occhio perché tu sei stato buono hai dato hai fatto ma ci sono delle persone non credenti al mondo che fanno più di noi ma Dio come vede queste opere le vede come vabbè è un punto per te no è una condanna in più perché tu pensi di poter fare le opere buone senza riconoscere il salvatore buono lettera D solo i non credenti qui lo dico ancora solo i non credenti saranno qui giudicati e qui dice tutti i non credenti dice quelli che sono morti in mare quelli che sono morti sulla terra a quei tempi loro avevano un'immagine che chi morisse tipo i marinai che morivano morivano affogati in mare che non si trovano i corpi erano in un posto separato dice dice qua no tutti tutti piccoli grandi potenti poveri ricchi tutti tutti saranno condannati e solo chi è non credente sarà condannato si passerà infine da un luogo temporaneo l'Hades a un luogo permanente lo stagno di fuoco potremmo dire dalla padella veramente nella brace Gesù ha usato molto spesso il termine genna con due e per parlare di questo posto e sapete in Israele loro usavano la parola che gli usciva che è naturale per scrivere un posto di schifo la parola schifo è la parola giusta qua era era diventata la fognatura quindi i rigetti umani Dio li chiama i peccatori i rigetti umani perché non hanno riconosciuto il loro bisogno del salvatore perché non si sono ravveduti delle loro opere sapete lo stagno di fuoco già esiste ha detto Gesù che è un luogo in preparazione non sappiamo dove uno studioso ha riconosciuto che ci sono per esempio è interessante come pensiero ci sono delle stelle si chiamano stelle nane bianche per chi ama l'astronomia per dire non è che sono là ma potrebbero essere là nello spazio in un posto queste stelle sono talmente compresse che è un fuoco liquido hanno molta molta pressione lì e così proprio come dice qua questo stagno questa immagine di uno stagno di fuoco è possibile non è che ci vuole è una cosa extranaturale per capire questa cosa perché esistono posti così anche nel nostro universo una piccola parentesi è doverosa qualche avrete notato che non c'è menzione di un purgatorio non c'è una via di mezzo o si va con Dio o si va nel lago di fuoco la morte stessa infine dice è il soggiorno dei morti l'ades passeranno al lago di fuoco parla della permanenza della perfetta permanenza di questo stato nelle parole di Dante potremmo dire veramente lasciate ogni speranza voi che entrate vi voglio ricordare brevemente quello che abbiamo visto stamattina in conclusione abbiamo visto come Dio ristorerà tutte le cose in Cristo Gesù il giusto giudice cinque giudizi abbiamo visto che la chiesa sarà giudicata è premiata da Gesù Cristo subito dopo il rapimento abbiamo visto che i credenti di Israele e i superstiti della tribolazione saranno giudicati da Cristo prima del regno millenario abbiamo visto come Satana sarà giudicato da Cristo Gesù dopo aver suscitato l'ultima rivolta del mondo contro Cristo abbiamo visto come numero 4 come la terra e il cielo saranno giudicati e distrutti da Gesù Cristo al suo arrivo sul grande trono bianco infine abbiamo visto che i peccatori impenitenti gli increduli saranno giudicati da Gesù Cristo e gettati nello stagno di fuoco come ultimo atto di resa dei conti prima di gettare la morte stessa e il soggiorno dei morti attuali nello stagno di fuoco con loro cosa possiamo imparare da questi messaggi di oggi quello che abbiamo visto oggi è un grande avvertimento sia per credenti che per non credenti ci sarà una resa di conti per tutti stamattina tu sei un credente in Cristo Gesù tu sei una persona che si è ravveduta del proprio peccato il messaggio di oggi è un conforto per te misto avvertimento la morte è solo il passaggio a una vita eterna con Cristo e con Dio Padre ma ci ricorda anche che dobbiamo valutare bene a che cosa dedichiamo la nostra vita sapendo che ne dovremmo rendere conto se invece stamattina tu sei ancora non credente dice io non ho la certezza della vita eterna io non ho la sicurezza di essere con Cristo se ancora non ti sei ravveduto stamattina del tuo peccato l'avvertimento maggiore è per te se hai 8 anni o 88 anni un avvertimento di non considerare la sorte tua come una cosa leggera chi morirà senza Cristo senza essere ravveduto del proprio peccato vivrà per sempre nella sofferenza più atroce e terribile così ti chiedo dove ti troverai in quel giorno del giudizio da che parte starai sarai tra i figli di Dio quegli adottati o sarai tra i nemici gli apostoli in atti hanno detto questo ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato cioè Gesù che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei santi profeti Paolo dice anche egli dice tu esaudito nel tempo accettevole e tu soccorso nel giorno della salvezza eccolo ora il tempo accettevole eccolo ora il giorno della salvezza e infine Romani 13 dice e questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo poiché è ora ormai che vi svegliate la sonno perché la salvezza adesso è più vicina di quando credemmo che grande conforto per chi è in Cristo e che grande avvertimento per chi non lo è ancora preghiamo Signore grazie grazie che se siamo in Cristo non saremo giudicati con gli increduli e gli impenitenti grazie che tu nella tua misericordia ci hai chiamati non per le nostre opere non per i nostri meriti ma per la tua grande bontà e per la tua gloria Signore ti voglio supplicare che nessuno qua stamattina possa uscire senza essersi ravveduto ed essere diventato un figlio di Dio per grazia abbi misericordia dei nostri vicini dei nostri amici dei nostri parenti dei nostri colleghi delle persone che vediamo per strada delle persone del supermercato delle persone che stanno in ospedale delle persone che sono sane delle persone più cattive ma anche di quelle che si pensano buone abbi misericordia perché sei un Dio misericordioso e ancora per loro c'è tempo apri i loro cuori aiutaci a essere dei testimoni fedeli di portare questa buona notizia e aiutaci infine a non vivere in modo che quando arriveremo davanti a te tutte le nostre opere saranno arsi saranno bruciate ma di avere un momento in cui possiamo celebrare in cui ci coronerai di corone di giustizia e di bontà per la tua misericordia Amen Grazie a tutti